Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro per il tanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta siamo nella serie, nella terra di Siv, quindi in Minecraft. Finalmente siamo tornati, da tant... ho fatto ballare tutto davvero, perché ho tirato una manata alla sedia. Perché siamo tornati dopo tantissimo tempo che non giocavo, visto che sinceramente parliamoci chiaro, a parte il periodo in cui c'era Pasqua, la fase d'esame, nella quale però ho qualche video uscito, no? L'avete visto sul canale? L'unico problema è che non ho voglia di giocare a Minecraft, in questo periodo non avevo voglia di giocare a Minecraft, finché ho detto, vabbè dai, è il momento di rigiocarci. E infatti eccomi qua nel nostro mondicino che gira furiosamente veloce e... dove faremo... sta impazzendo, vi giuro. Perché ho comprato il nuovo mouse, lo vedete? Eccolo qua. E' un mouse da gaming, però wireless, perché non mi andava di averlo col filo, so che non è un'ottima scelta, bisognerebbe averlo col filo, ma... l'ho preso così. Comunque ragazzi, allora, oggi ci sono svariate novità. Devo un po' tarare il movimento, vabbè. Allora, la prima è riguardante la famosa miniera che abbiamo fatto due puntate fa, che abbiamo iniziato due puntate fa. Ci sono state delle novità. Ed eccola lì, la prima che vedete. Guardatela là, che bella, grande e grossa e ciula. Già. No, allora, ho fatto quella gru, perché dovrebbe essere quella mano che tira su i materiali, credo. E... mentre ci ho messo qualche materiale grezzo, per fare capire che si tratta dell'esterno di una miniera... Mamma mia, se gira strano, ma è il mouse che... Boh, ho abbassato un po' la sensibilità. Comunque, ho fatto questa casetta, che dovrebbe essere la casetta del minatore, dove qua dentro ci sono i carrelli e le cose varie. Entrando potete vedere il tutto, le cose belle, insomma. Lì ho messo le due armature. Dopodiché, guardando, qui c'è la nostra gru. E poi qua, come potete vedere, c'è la discesa, che ho fatto con i materiali un po' più carini, verso la nostra miniera. E adesso vi faccio vedere. Andiamo. Arriviamo qua. Scendiamo furiosamente con il nostro carellino. Ed eccoci qua. Questa è la costruzione che per adesso ho fatto riguardante la nostra miniera. Potete vedere che è sinceramente molto, molto carina, molto variegata. Poi non sono andato avanti, perché mi sono concentrato sul costruire la casa. E adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto. Non sul costruire la casa, sul progettare la casa. Comunque, per adesso, questo è ciò che ho fatto. Off camera, proseguirò e farò altre cose interessanti, che serviranno a completare la nostra miniera. Ma adesso ci vediamo su, che vi faccio vedere una cosa riguardante la casa. Anzi, non ci vediamo su. Ci vediamo direttamente nel mondo in creative, dove ho iniziato il progetto della casa. Ed eccoci qua. Questo è il progetto della casa. Lasciate stare quelle scale volantile in alto. È il progetto iniziale che ho fatto. La forma sarebbe questa, la vedete? L'unica cosa è che non ho continuato a farla, perché non so esattamente come strutturarla. E la cosa non mi fa impazzire, sinceramente. Farò una casa moderna, almeno la mia idea è questa. L'unico problema è che non so come proseguire. Quindi datemi dei suggerimenti, ragazzi, magari nei commenti. Fatemi arrivare a conoscenza di qualche consiglio che vorreste darmi. Comunque, l'idea potrebbe essere questa, ma potrei anche cambiarla e magari fare una presa da internet, un progetto diverso. Questo l'ho fatto io, perché mi ispirava. Anche se abbastanza, diciamo, squadrata, ecco. Comunque, questo è quello che c'è per adesso. Proseguirò, adesso che magari riprenda a giocare a Minecraft, e vedremo magari in futuro le nuove novità. Adesso, però, non è questo il fulcro della puntata. Ho in mente un progetto che faremo oggi, che faremo ovviamente nel nostro mondo. Quindi ci rivediamo di nuovo là. Ed eccoci qua. Eccoci tornati nel nostro mondicino. Siamo dove c'è la nostra grandissima distesa, il nostro campo di grano. E andiamo qua sopra. Vi chiederete perché, che cosa vuoi costruire. Ciò che voglio costruire è una Y, che rappresenta YouTube, dove all'interno ci metterò tanti cartelli che rappresentano tutti i giochi che ho portato sul canale, tutti i videogame. Ed è una cosa carina che mi è venuta in mente oggi da fare. Se però completo lo spazio all'interno della Y, perché comunque sono numerosi i giochi e nel tempo ne porterò numerosi, cosa farò? Continuerò a costruire la scritta YouTube. Quindi inizialmente ci sarà solo la Y, poi la O, poi la U, eccetera, eccetera, eccetera. Questo servirà magari nel tempo, andandolo a riguardare, se continuerò con questo mondo, se non ne creerò un altro, non si sa mai cosa può succedere, di lasciare un segno di ciò che succede all'interno del canale nel mondo. E allora quello che farò è questo, la nostra Y di YouTube, che sarà fatta da 1, 2, 3, 4, 5 blocchi per 1, 3, 4, 5. Ah, sì, sono già andato a prendere la terracotta, l'ho già fatta a diventare rossa perché non volevo tediarvi con questa cosa stupida alla fine che sapete fare tutti. E quindi sono arrivato già pronto, ecco. Ho già fatto praticamente tutti i materiali, per quanto non è che servano grandi materiali per questo progetto. Questo è il terzo piano e direi di farlo alto di 4. Ho già in mente un'idea e sinceramente ho preso da internet la forma che voglio seguire, che è questa, la vedete in sovraimpressione. Ok, e praticamente la farò facendo in modo che io possa entrarci, insomma. E farò questa opera, 1, 2, 1, 2, dopodiché mi muovo verso di qua, 4. Ok, la nostra Y inizia a prendere forma. Ora che cosa facciamo? Partendo da qua alziamo di un piano, però questa volta divento 1, 2, 3, saliamo qua sopra, 4 e 5, esattamente. Poi unisco le varie cose, si stavo cadendo malamente, e lo stesso faccio dall'altra parte. Ed eccoci qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Salire, principalmente salire, perché la Y in YouTube andrà a espandersi verso l'alto. E lo facciamo alto 8 blocchi. Quindi ci vediamo già il risultato finito, dai. Ed ecco fatto ragazzi miei. Questo è il risultato finale. È una bella Y che rappresenta YouTube, dove adesso all'interno, vi faccio vedere, non ho creato la porta, vabbè ce la metterò dopo, da questa parte, in modo che non si vedesse dalla parte di casa mia, tra virgolette. Ho fatto in modo di poterci salire. Arrivi qua, ed è come se fosse una piccola torre, poi vai di qua, dove non ho ancora messo le scale, tra l'altro, dove puoi salire verso l'altro per mettere poi dopo i nostri cartelli. Cartelli che metteremo adesso, stessa cosa da questa parte ovviamente, no? L'unica cosa li mettiamo chiaramente al piano terra, ma manca solo un piccolo particolare per ora, che è l'ultimo particolare di costruzione. Ho deciso di mettere del quarzo come pavimento. Niente di troppo spettacolare, però almeno lascia intendere i colori di YouTube, cioè il bianco e il rosso. Quindi entri, e adesso prendiamo i cartelli che mi sono portato, iniziamo a metterli. Il primo gioco a cui abbiamo giocato è Mv3, dopodiché Minecraft, e poi Black Ops 2. Questi sono i primi tre giochi. Andiamo avanti. Most Wanted, Mv2, e sì ragazzi, il mio canale è iniziato molto con Call of Duty. Black Ops, Advanced Warfare, Amateur Surgeon 4, Bathroom Rack, e abbiamo finito la prima facciata. Proseguiamo. Andiamo da questa parte. FIFA 17, Code 4, Totally Accurate Battle Simulator, quindi TABs, FIFA 18, ovviamente Fortnite, Call of Duty WW2, l'ultimo uscito, e infine il gioco nell'ultimo video, Rules of Survival. Ed ecco qua. Questi sono i primi giochi a cui ho giocato, partendo dall'alto e poi muovendomi verso di qua, sempre partendo dall'alto, con Rules of Survival, che è stato l'ultimo, con l'ultimo video che guardatelo, mi raccomando, dove ci chiediamo se è effettivamente la versione mobile per Android di Fortnite. Comunque ragazzi, questo è il risultato della nostra giornata, della nostra puntata, la nostra Y di YouTube, e proseguirà da questa parte, ovviamente, se finiremo lo spazio disponibile. Comunque ragazzi, io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, anche se sei ancora là, te l'hai fatto. Aspetta, volevo salire qua sopra, lasciami salire, mannaggia, te mannaggia. Dai, ce la faccio, eccoci qua. Questo è il risultato del nostro lavoro di oggi, oltre a ciò che vi ho fatto vedere. Mi raccomando ragazzi, aiutatemi con la casa, perché ho proprio bisogno, fatemi sapere se vi piace questa idea, e giochi a cui giocare per riempire la nostra Y, e poi dopo il resto della scritta, youtube vi auguro una buonissima continuazione scusatemi se non sono usciti video di minecraft in questo periodo prometto che mi impegnerò a farli uscire il più presto possibile sia di minecraft che di fifa perché devo continuare la serie professionale allenatore che trovate qua in alto vi auguro una buona continuazione ve l'ho già detto e ciao ciao belli ciao ciao